Bella a tutti qui Triface, chi vi parla vi sarete sicuramente domandati qual è il posto migliore dove expare il nostro Necramech. Esiste infatti una missione dove sarà possibile maxare del tutto il livello del nostro Necramech in una sola botta. I due modi che sicuramente saranno risaltati di più sono quelli di fare le taglie all'interno delle zone che presentano un open world, quindi in questo caso Deimos con Cambion Drift, altrimenti abbiamo Venere con Orb Valley. Infatti se prendiamo le taglie di queste due zone sarà possibile expare il nostro Necramech, ciò nonostante non guadagneremo abbastanza esperienza. Per poter expare in modo adeguato infatti all'interno della nostra navicella sarà possibile selezionare mediante questo tasto, quindi prima dovremo aver sbloccato il Railjack e di conseguenza le sue missioni. Nella zona Veil Proxima sarà possibile accettare la missione Lu-Yan. Lu-Yan come vedete è una missione Railjack con modalità Survival. Questa è una vera e propria missione Railjack, infatti al suo interno sarà possibile poter accedere a una seconda missione che non sarà altro che una missione sopravvivenza con mostri praticamente illimitati dove noi potremo evocare il nostro Necramech al suo interno. C'è da dire anche che dovremo essere ben equipaggiati con le mod, quindi ovviamente andare con il nostro Necramech senza nulla vuol dire morire subito e non riuscire ad expare, quindi è molto importante che noi siamo abbastanza equipati per poter fare questa missione. Completare questa missione infatti ci permetterà di guadagnare un quantitativo esponenziale di esperienza, per questo motivo secondo me questo posto è il migliore.